Oggi alla Prefettura ci aspettiamo che il Presidente della Regione Crocetta dia finalmente un'indicazione su quella che è la delibera loro effettuata da Lombardo. Prevento è logico che i lavoratori non scenderanno dall'altezza dell'azienda fin quando il Presidente Crocetta non verrà in azienda oppure si proclamerà qualcosa su questa delibera.